Nessuno aiuterà mai il popolo se non il popolo stesso. E quello che sta accadendo con il Movimento 5 Stelle al governo è forza maggioritaria, al 33% in Parlamento, ma non maggioranza del 51%. E dal 2013, sette anni prima di ora che il Movimento 5 Stelle, che è il popolo, chiede una riforma della scuola che faccia scomparire le classi pollaio, che chiede investimenti in istruzione, che chiede scuole sicure. Siamo stati voci solitarie, non aiutate né dalla Lega né dal Partito Democratico, finché il Movimento 5 Stelle non è andato al governo del Ministero dell'Istruzione, cioè da quest'anno. E' solo con il 2020 che è iniziata la nostra corsa contro il tempo a costruire una scuola sicura, innovativa e stabile. Prima ci dicevano che erano solo parole. Ora gli investimenti hanno superato solo per il 2020 i 6 miliardi in un solo anno. Ci chiedevano più personale stabilità e solo quest'anno assumeremo 84.808 docenti precari e 11 mila di personale ATA a tempo indeterminato, senza aver bisogno di nessuna buona scuola, nessuna riforma scriteriata sulla nostra pelle. In più abbiamo per il 2020 individuato e previsto con oltre un miliardo nel decreto agosto 50.000 assunzioni di emergenza, che sono la base per costruire nei prossimi tre anni la scuola senza classi sovraffollate. A tutto questo si aggiungono i 330 milioni di euro per il rinnovamento di aule e spazi già arrivate nelle casse di tutti i comuni d'Italia, che però non tutti i sindaci stanno usando al meglio. Ci sono clamorosi ritardi, voglio parlare della mia città, Torre del Greco, e so che anche altri sindaci stanno lasciando da soli i dirigenti scolastici. Sono in ritardo con i progetti e pensano di usare queste risorse come banco personale, senza avere alcuna misura dell'emergenza che stiamo vivendo, nonostante le nuove norme diano responsabilità ai sindaci, soldi e procedure semplificate. Infine, col decreto agosto, abbiamo fondi per i patti di comunità educativa, per dare ad ogni comune e alle scuole la possibilità di allearsi con il mondo della cultura, con il terzo settore, con il mondo educativo e formativo locale, con la rete dei musei. Abbiamo soldi per gli affitti, il leasing e il nolleggio di strutture temporanee. Su tutto questo ci divideremo solo tra chi si scorcerà le maniche perché vuole essere ripagato dagli occhi e dai sorrisi dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che vogliono tornare a scuola a settembre. E chi, cinicamente, in politica o in altri ruoli, opera a sfasciare, a delegittimare, a lamentarsi perché è lo sport più semplice del mondo. E perché in fondo, in fondo, c'è chi è interessato più a se stesso che al bene comune.